Sul Mona e l'Abruzzo sono protagonisti di un progetto innovativo costituito da treni con motrici alimentate ad idrogeno verde, laddove non esistono tratte ferroviarie elettrificate e dove attualmente vengono usate motrici a gasolio molto inquinanti e molto rumorose. Treni ad idrogeno sono già attivi nella bassa Sassonia, presto anche in Italia sarà attuato un progetto che mira a rendere il trasporto ferroviario non solo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche molto più silenzioso rispetto ai modelli tradizionali. La tratta capofila sarà la Sansepolcro sul Mona, lo ha comunicato la senatrice Gabriella Di Girolamo, Movimento 5 Stelle, che ha anticipato una proposta del Ministero dello Sviluppo Economico. Come gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle già da un anno siamo a lavoro su questo tema, ovvero sulla possibilità della sperimentazione dell'idrogeno su alcune tratte ferroviarie non ancora elettrificate. Quindi evitare le grandi spese di elettrificazione per creare un nuovo volano che non solo crea un rilancio economico e sociale di determinate aree, delle aree dove appunto viene prodotto idrogeno e poi consumato, ma crea anche un importante contributo a quello che è il contesto della decarbonizzazione, così come l'Unione Europea si è imposta come obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni nell'area di CO2 entro il 2030.